Sono Artemisia, Artemisia Gentileschi, quella che un tempo fu l'artista romana più famosa e più bella. La mia vita è stata un dramma, un vero dramma, perché sono nata nell'epoca sbagliata. Donna, donna artista, donna artista ribelle, tre parole che non legavano con quei tempi. Io sono scappata dal sistema, ho percorso tutte le strade, non ho dormito di notte, ho imparato a leggere, a scrivere, ho venduto il mio talento, la mia arte e perfino il mio corpo. Fin da bambina avevo mostrato una buona attitudine per l'arte. Frequentava la nostra casa il Caravaggio, amico e maestro di mio padre. Orazio coltiva la sua passione perché Artemisia, parastra. Lui mi adorava, ma dopo la morte della mamma il suo attaccamento se l'ha fatto esclusivo, morboso. Avvo solo sei anni quando posai per lui la prima volta, mezza nuda, in braccia alla Madonna, o come un angioletto con le ali. Malefici da modella che quando il mio corpo si sviluppò, sempre la sua modella preferita per rappresentare la Madonna Callata, l'angelo che annuncia, o la suonatrice di luto. E io sentivo il suo sguardo febbricitante sul mio corpo, sul corpo di sua figlia. E avevo in pugno mio padre e il Tassi. A 17 anni dipinsi la prima opera che fece apprezzare le mie precoci doti artistiche, Susanna e i vecchioni. I due vecchioni che spiano lascivi, Susanna nuda al bagno, tanto vecchi non sono, perché nelle loro fattezze ho voluto rappresentare mio padre e il Tassi. La casta Susanna sono io. Due anni dopo avvenne l'episodio che segnò definitivamente la mia amica. Mio padre denunciò il Tassi per stupro e lo portò davanti al tribunale con l'accusa di avermi violettata più forte. Tassi avrebbe negato tutto e avrebbe chiamato il mondo intero testimoniare che lui era padre e marito eseguitato. Poi c'era un altro motivo per cui non voleva affrontare la giustizia. Per essere sicuri che dicessi la verità, mi avrebbero sottoposta la tortura dei sinistri. Mi avrebbero avvolto i pollici con delle cordicelle che avrebbero poi progressivamente sarrato e tirato verso l'alto fino a procurare dei dolori atroci. Il processo durò sette mesi, un'eternità. Una volta rimasti soli nella stanza, il Tassi chiuse la porta a chiave e mi violentò con grande mio sanguinamento. Una volta terminata la violenza, afferrai un coltello e lo ferì. Alla fine il Tassi fu condannato per avermi deflorata e grave accorrutto dei testimoni. Ma ero uscita distrutta, donna scoprata due volte. Probabilmente avevo avuto un parziale giustizia soltanto affrontando un processo infamante e facendomi sottoporre io, la vittima, a una dolorosa tortura mentale e fisica. Sfidai la morbosità caricando i miei quadri di violenza e di sessualità. Avete presente il quadro con Giuditta che legava in Oloferne e chi guardava quel quadro vedeva in Oloferne il Tassi, mentre Giuditta trionfante ero io. 59 anni e sto aspettando la morte. Un'immagine in particolare mi perseguito da sempre. Il Tassi è ammalettato che vi urla, futtana. Futtana. E forse avete ragione. Quello che ha fascinato di me, uomini e donne, più che il mio pareto, è stata la mia forte personalità. Fanno la fila per ammirare i miei quadri e dicono che in essi la mia sensualità è quasi un'allucente. Nelle mie gruppa, nelle mie lucrezze, nelle mie magdalene, le mie autorità e perfino nelle mie madonna. Le donne da lei creati sono donne vere, hanno passioni, sentimenti, come le donne di questo mio tempo. Schiacciate da un mondo che le vuole tutte puntare. Tutte sapete. Mani, figli, sorelle, mori, tutti. Eppure, faccio parte del mondo. Eppure, faccio parte del mondo. Eppure, faccio parte del mondo.